Signor Mortara, suo figlio Edigardo è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo. Cosa? A prenderlo in che senso? Portarlo via. Se lo portassero via! Tutto è stato fatto in piena regola. Ma! Il grado! Secondo il diritto canonico. Mi toglierò il mio testo, papà. Ti faranno niente. Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue. Questo creerà nuove attenzioni. Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America. Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Il figlio è ebreo! Hai battezzato mio figlio. Hai battezzato mio figlio! Vaglio a scendere! Vaglio a scendere! Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Questa è la tua famiglia adesso. Questa è la tua famiglia. Interessore che accorgil Ballina èakeda... Questa è la tua famiglia. Sia vi scendere! Chioma. 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 Perєzare! Proскаяktor telesale. Grazie.